Volete potenziare la scheda grafica del vostro pc da ufficio che ha un alimentatore troppo scarso e non è neanche tanto grande oppure avete intenzione di fare un pc davvero super minuscolo e che non consumi niente beh questa è la scheda video che fa per voi oggi andremo a parlare della RTX A2000 Ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Intendaro Pazzo oggi siamo qui con questa schedina che reputo davvero molto ma molto interessante è infatti una scheda non di fascia consumer perché non è una GeForce e fa parte dell'architettura Ampere cioè delle RTX 3000 ed è diciamo la sua particolarità che vedete già da come riesco a tenerla facilmente in mano perché è una scheda small form factor cioè SFF per abbreviare ed ha anche avuto il primato per diverso tempo di essere la scheda video più potente appunto in formato SFF cioè che non richiede tra l'altro alimentazione ausiliaria perché se vedete anche dal lato non ha connettore di alimentazione ausiliaria infatti arrivo subito al TDP che è di 70 Watt e l'altra cosa che appunto è più bassa dello slot classico insomma PCI Express diciamo per le schede video infatti poi in realtà in questo caso la staffa che sta qui dietro è montata diciamo quella standard per i computer desktop normali ma esiste insomma anche la versione comunque la potete andare a comprare per poi montarla su insomma anche per i computer più piccolini quelli veramente sottili se appunto magari volete potenziare un PC da ufficio appunto di questi SFF oppure ne volete realizzare uno voi da zero ma prima di continuare con questa scheda c'è lo sponsor di oggi hai appena assemblato il tuo nuovo PC e installato Windows ma ti accorgi che la licenza non è attiva Niente paura, lo sponsor di oggi è GVG Mall che offre chiave di Windows 10 e 11 a prezzi super competitivi col coupon esclusivo per il mio canale GGNT avrete uno sconto del 25% e potrete acquistare una chiave di attivazione di Windows 10 a solo 15€ oppure una per Windows 11 a solo 20€ pagando con Google Pay o Paypal tutti i link sono in descrizione Prima di tornare a parlare di questa scheda però ci tengo ovviamente a ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui la domenica Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte uno per quanto riguarda le offerte di Amazon di hardware videogiochi nuovi e l'altro invece per le offerte sempre di Amazon ma per la parte usata mi raccomando iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio e appunto passano sempre tante belle offerte Detto questo vi invito anche a seguirmi nella mia pagina Instagram di Nintech e detto questo torniamo a parlare della A2000 Uscita ottobre del 2021 in piena crisi del mining delle schede video questa RTX A2000 come vi ho già anticipato ha avuto il primato di essere una se non ecco la scheda più potente in formato small form factor infatti la vedete è minuscola dimensioni veramente che stanno prendendo in tutti i computer possibili e immaginabili certo ha due slot questo è solo l'unico svantaggio della sua dimensione però ecco se la rendevano pure a singolo slot veramente potete andare a prendere un adattatore grafico oppure usare l'integrata perché ecco meno di così per le prestazioni che ha è davvero impossibile da chiedere al suo interno presenta un DAI GA106 che è lo stesso utilizzato all'interno della RTX 3060 l'unica cosa che diciamo la configurazione dei Cuda Core è un pochino diversa in questo caso abbiamo 3300 erotti Cuda Core rispetto ai 3500 e qualcosina ecco della 3060 differenza poi che si vede soprattutto nelle frequenze di clock dove questa 2000 ovviamente è fortemente svantaggio rispetto alla 3060 ma per ovvie ragioni visto che la 3060 ha un TDP completamente diverso e richiede ovviamente colettore di alimentazione ausiliaria e diciamo anche come dimensione è ben più grande di questa 2000 oltre a questo il bus di memoria dovrebbe essere lo stesso 192 bit e però ecco questa 2000 arriva in due versioni arrivava in due versioni cioè 6 giga e 12 giga di memoria VRAM GDDR6 il Bandit dovrebbe essere 228 gigabyte al secondo quindi diciamo il comparto VRAM non è eccezionale però comunque ecco dobbiamo sempre tenere in considerazione le dimensioni di questa scheda e le alternative che ci sono visto che insomma altre schede su questa fascia ecco di grandezza insomma proprio ci promettono veramente molto meno in termini di prestazioni quindi sostanzialmente è come se ci trovassimo di fronte a una RTX 3060 un pochino castrata però ecco magari anche con alcune feature diciamo dell'architettura quadro cioè appunto le memorie ECC che insomma sono più stabili teoricamente rispetto alle versioni non ECC e ecco anche i driver ottimizzati apposta ecco per diverse applicazioni di produttività che ovviamente andremo a testare insomma nella parte dei benchmark di questo video in termini di custom ovviamente abbiamo il design reference diciamo ideato da Nvidia abbiamo infatti una singola ventolina Blower che arriva diciamo a RPM intorno ai 3000-3300 che effettivamente è tanto però vi devo assicurare che è molto più silenziosa rispetto ad altre ventole che ho sentito sempre Blower e quindi effettivamente anche a pieno carico questa scheda devo dire che non è fastidiosa come la sua sorella maggiore la 5000 di cui avevamo parlato in un vecchio video che vi lascio linkato qui in alto nelle schede l'altra cosa che potrebbe essere uno svantaggio soprattutto se l'andate ad acquistare usata è che presenta come connettori video 4 uscite DisplayPort Mini 1.4 e il fatto che siano mini ovviamente fa sì che dobbiate prendere degli adattatori cosa che diciamo un problema che non sussiste se l'andate ad acquistare nuova ma ecco questa scheda ormai non credo sia più in produzione comunque è difficile trovarla nuova e per questo insomma sì se la trovate nuova ok dentro nella scatola ci sono tutti gli adattatori del mondo ma se la prendete usata la maggior parte delle volte ve la vendono così e quindi dovreste andare a spendere insomma una decina di euro quindicina per prendere un adattatore almeno per un'uscita video prima di passare alla piattaforma di test e poi ovviamente i benchmark che ci tengo a ringraziare il mio amico Lorenzo perché è stato lui a procurarme una e anzi in realtà me ne aveva portate ben 4 che starete vedendo anche in questo momento che provenivano insomma da un mining rig il fatto è che ecco 3 su 4 non funzionavano e questa è l'unica che funzionava quindi diciamo da una parte abbiamo avuto fortuna diciamo non gli ho chiesto come le ha reperite probabilmente ecco da qualcuno che insomma aveva deciso di disfarsene però insomma magari ci aveva minato veramente tanto e quindi insomma sì nel mining diciamo in molti se ne sono approfittati ecco e quindi soprattutto se non hanno fatto le cose come si deve diciamo le schede poi sono anche morte questo in realtà è un esemplare ecco ancora in vita diciamo di A2000 che oggi appunto andremo a testare insomma in diversi benchmark di produttività e ovviamente anche in gaming perché effettivamente funziona molto bene anche per il gaming e però ecco sì per passare effettivamente alla piattaforma di test dove abbiamo eseguito tutti i vari test ecco come core principale come CPU abbiamo il Ryzen 5 3600X come scheda madre una Asus B450F della ROG Strix e come RAM delle Corsair Vengeance LPX da 16GB e ovviamente 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 come alimentatore abbiamo l'alimentatore WPM Gold da 750W della Sharkoon e come SSD un Crucial P1 detto questo direi che ho parlato anche abbastanza e ora lascerei parlare i benchmark e per iniziare col primo test abbiamo Cinebench 2024 per la sezione GPU e otteniamo un punteggio di 5978 punti molto vicino a quello della 2070 Super come possiamo vedere dal grafico su Blender Open Data 4.0 abbiamo un punteggio combinato delle tre scene di 1926,63 punti e per passare a Blender BMW Demo abbiamo invece un tempo di rendering dell'immagine di soli 15,66 secondi che sono davvero pochi se consideriamo insomma la grandezza e il consumo di questa scheda passando a Blender Classroom Demo invece abbiamo un tempo di rendering di 35,33 secondi e per passare sempre a un altro benchmark noto di rendering abbiamo Octane Bench che è esclusivo per le schede Nvidia con Enable RTX otteniamo un punteggio di 238,08 punti quindi anche qui niente male passando ora a Vray CUDA abbiamo un punteggio in VPATS di 716 che invece per quanto riguarda Vray RTX non so per quale motivo ma il test non poteva essere eseguito su questa scheda quindi non so bene a cosa sia dovuto ma insomma l'ho voluto comunque riportare passando a Specview Perf 2020 qui possiamo confrontare i punteggi della A2000 con la 3090 e in qualche applicativo vediamo che questa è in vantaggio perché insomma è una scheda della fascia quadro magari qui poi ne approfondiremo più avanti in un altro video però insomma è una cosa abbastanza interessante su Adobe Premiere Pro 2022 con il Puget System Benchmark otteniamo un punteggio sulla GPU di 47,6 punti e per finire con l'ultimo benchmark di produttività abbiamo Stable Diffusion per quanto riguarda la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale qui con Xformers attivo e la A2000 si comporta davvero bene perché riesce ad arrivare a 6,5 terzioni al secondo che non sono per nulla male per quanto riguarda invece le prove di Overclock qui con un boost di 300 MHz che però non è stabile fisso per il fatto che dobbiamo sottostare al TDP che è bloccato a 70 Watt comunque riusciamo a sbloccare circa un 10% di prestazioni in più che non sono male anche se ovviamente poi dipende anche dal gioco però davvero tanta roba lo vedremo meglio nelle conclusioni passando ora i giochi con Control Full HD set agili di DC d'Alfandry otteniamo un Average Frame Rate di 76,8 FPS 1% di 59,6 quindi perfettamente giocabile e anche il Ray Tracing se lo andiamo ad attivare mettiamo Ray Tracing a medio e DLSS Quality manteniamo comunque 73 FPS di media con un 1% low di 55,4 quindi davvero tantissima roba anche qui possiamo giocare a Ray Tracing con una scheda che consuma veramente poco Alan Wake 2 Full HD e DLSS Quality attivo con settaggi di Digital Foundry qui ovviamente questo è un gioco molto molto pesante comunque questa scheda riesce a farci giocare insomma a 50 FPS quasi perché abbiamo un Average di 49,5% e un 1% low di 34,5% quindi comunque anche questa è un'esperienza secondo me molto godibile su Death Stranding invece in Full HD e settaggi maxati abbiamo un Average Frame Rate a stock di 97,5 FPS e un 1% low di 79 FPS che è davvero elevatissimo e questa secondo me è un'esperienza di gioco eccezionale se consideriamo poi sempre che questa scheda consuma neanche 70 Watt è davvero tanta roba passando ora Cyberpunk 2077 Full HD e settaggi di Hard Unboxed che sono veramente abbastanza pesanti e anche qualitativamente sono pari a quelli ultra abbiamo un Average Frame Rate di 52 FPS e un 1% low di 33,5 quindi niente male e volendolo possiamo anche giocare con Ray Tracing attivando Ray Tracing a medio e DLSS a Quality stiamo con un FPS medio di 29,5 FPS quindi diciamo è giocabile se siete di bocca buona però ecco comunque molto impressionante che questa scheda riesca anche a ottenere un punteggio simile su un gioco così pesante God of War 1080p e settaggi alti abbiamo un Frame Rate medio di 65 FPS e un 1% low invece molto alto anche questo di 50 FPS questo vuol dire che insomma la scheda lavora molto bene anche all'interno di un sistema simile quindi davvero anche qui esperienza di gioco in Full HD eccellente per un gioco comunque abbastanza pesante Battlefield V, settaggi alti e sempre in Full HD stock 111 FPS quindi davvero anche qui con un gioco che ha una grafica secondo me ancora molto buona otteniamo un'esperienza quasi ad alto refresh rate poi volendo si può attivare anche il DLSS e comunque anche abbassare un po' i settaggi se vogliamo avere un'esperienza più competitiva quindi davvero niente male Fortnite capitolo 5 stagione 1 testato in DirectX 12, Full HD e settaggi medi otteniamo insomma un Frame Rate medio di 154 FPS e un 1% low di 81,6 quindi anche qui insomma per un titolo già più esport insomma abbiamo un Frame Rate abbastanza alto e diciamo già un po' più competitivo e utile per giocare insomma The Finals 1080p, settaggi medi e qui anche testato con Ray Tracing a medio perché dà effettivamente un vantaggio all'interno del gioco il Ray Tracing abbiamo un Average Frame Rate stock di 78,7 FPS senza upscaling quindi nativo e un 1% low di 51,3 quindi davvero tanta tanta roba per un nuovo titolo sull'Areal Engine 5 e passando ora all'ultimo gioco Counter Strike 2 Full HD e settaggi alti abbiamo un Frame Rate stock di 159 FPS e un 1% low di 80 virola 4 qui volendo possiamo abbassare benissimo i settaggi anche a medio e arriviamo in praticamente quasi a 200 FPS detto questo direi che ora possiamo passare alle conclusioni di questo video e eccoci qui ragazzi dopo aver visto i test che dire io sono comunque molto stupito dalle prestazioni di questa scheda perché davvero non mi immaginavo mai soprattutto dopo aver visto come si comportava la sorella maggiore cioè la A5000 che abbiamo testato quasi un anno fa che questa scheda ancora più piccola sempre della stessa famiglia andasse invece così bene perché ci troviamo davanti una scheda che è ottimizzata benissimo dal punto di vista delle temperature e dei consumi non dà particolarmente fastidio ecco la velocità della ventola e effettivamente poi anche le frequenze che riusciamo a ottenere non sono ecco downclockate come succedeva ripeto nel caso della A5000 ma sono diciamo giuste anzi sono anche più altri rispetto a quello dichiarato da Nvidia insomma nelle specifiche tecniche e tra l'altro ecco se avete visto si può fare anche un po' di overclock diciamo lato VRAM non la starei a stressare troppo sul core anche lì diciamo non viene applicato proprio una frequenza stabile perché ovviamente dobbiamo sempre rispettare il TDP che è di 70 watt che non può essere modificato e quindi diciamo la scheda fluttuerà però comunque in termini di frequenze però comunque ecco anche se ne va a impostare un più 200 MHz secondo me fa bene perché ecco riesce a farla andare sempre più o meno al massimo e diciamo non abbiamo svantaggi in termini di temperature e consumi invece abbiamo ecco un guadagno magari un pochino ecco non chissà quanto in termini di prestazioni per quanto riguarda la produttività è comunque una scheda secondo me molto interessante perché effettivamente facendo parte dell'architettura Ampere ha tutti i benefici ecco di questa architettura di Nvidia cioè insomma core per il ray tracing buoni e insomma anche vari tensor core che ci permettono poi di sfruttare insomma algoritmi di intelligenza artificiale come il DLSS oppure appunto anche proprio programmi che sfruttano l'IA cioè tipo stable diffusion e effettivamente se consideriamo sempre che questa scheda la possiamo praticamente mettere ovunque in qualsiasi computer è davvero un bel bonus e oltre a questo per quanto riguarda poi la parte di gaming abbiamo delle prestazioni in full HD che non sono davvero niente male l'unico svantaggio secondo me diciamo oltre che per il gaming soprattutto poi forse per la produttività sono i 6 giga di VRAM però anche qui ripeto dovete fare i conti col fatto che questa scheda veramente la potete mettere ovunque e sì effettivamente esiste anche la versione da 12 giga che a questo punto ecco se la differenza di prezzo a cui la trovate magari usata non è chissà quanta ve la consiglierei visto che sia ecco per i programmi di produttività viene sicuramente molto utile poi ovviamente anche in gaming se volete andare a usare una risoluzione un po' più alta o comunque texture molto alte con anche magari ray tracing quindi passando alla questione prezzi prima di arrivare alle conclusioni di questo video questa scheda si può trovare usata attualmente tra i 180 euro e i 200 euro se volete utilizzare questa scheda in un computer desktop normale ATX o quello micro ATX o quello che è diciamo non ve la consiglio effettivamente perché ci sono alternative come la stessa 3060 che si possono trovare ecco a cifre abbastanza simili però col vantaggio ecco di avere 12 giga di VRAM e insomma prestazioni anche più spinte però se il vostro obiettivo è quello di andarla a mettere in un pc small front factor dove appunto non potete andare fisicamente a installare una scheda più grande oppure dovete metterla in un computer che non ha un alimentatore particolarmente diciamo capiente in termini di watt è sicuramente la scheda che fa per voi nel senso sì andarla ad acquistare usata vi ho già detto insomma anche da dove arriva questa scheda è molto plausibile che insomma siano schede che hanno minato e anche abbastanza quindi ecco magari prima di acquistarla assicuratevi che funzioni bene che si overclocki un pochino anche il lato VRAM e che sia abbastanza stabile perché ripeto queste schede sono uscite in un periodo che peggio non poteva essere e sono state acquistate in massa soprattutto perché appunto consumavano pochissimo e comunque avevano un comparto VRAM diciamo abbastanza buono ecco per minare quindi mi raccomando se la volete prendere date un occhio ai prezzi e alle condizioni però per il resto è una scheda che sia per la produttività sia per il gaming se ovviamente volete metterla in un computer piccolino e tutto quanto come abbiamo detto in questo video ve la consiglio al 100% è davvero una scheda che mi ha stupito e mi ha impressionato veramente molto in positivo quindi arrivati a questo punto del video io non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è sicuramente quello sulla sorella maggiore la RTX A2000 che abbiamo visto insomma in un video di quasi un anno fa e il secondo video invece che vi consiglio riguarda quello sulla RTX 4070 scheda che comunque anche se è andervoltata arriva a consumi veramente bassi pur però essendo ecco una scheda diciamo per computer ATX classici desktop e però insomma come livello di prestazioni ovviamente è molto superiore a questa insomma sono due video che vi consiglio li trovate linkati qua davanti detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi